buonasera buonasera a tutti cari appassionati di retro gaming e appassionati di darsh che fa casino col bot in realtà è il bot che ha fatto casino stasera non so perchè non mi prendeva la notifica poi cercherò di capirlo infatti neanche adesso mi dice che sono online ma sono online, mi vedete? mi sentite? chissà va bene, comunque io intanto vi saluto buonasera Trish, buonasera Marcello e buonasera Kazoo come state? che mi raccontate? Pig Robo è bellissimo si non so che cosa stasera Twitch sinceramente non mi manda le notifiche non fa cose non lo so, va bene comunque l'importante è che sono riuscito a un minimo ad avvisare poi cercherò di sistemare di di risolvere in caso buonasera mi sentite bene tutto a posto? si perchè c'è stato un momento in cui ho avuto dei problemi di di connessione però sembra sembra si sia tutto stabilizzato dopo domani ma me processano ah bene allora tanti auguri bocca al lupo come si dice in questi casi non farti process cioè no non farti processare no non farti non farti grande franciccio finalmente franciccio ha sbloccato il il suono del millennio che io andrò immediatamente ad attivare credo aspetta ce la posso fare ce la posso fare si ok è ufficialmente attivo grande franciccio grazie da grazie da parte di tutto il canale è bellissimo dovrei secondo me dovrei dovrei abbassare il il cooldown perchè questo anche se viene diciamo attivato più volte nel corso della live non fa niente è troppo bello aspettate che devo anche aggiornare ovviamente il comando quello dei suoni perchè non ce l'avevamo ancora messo ok eccolo qui cominciano a essere tantini i suoni però devo dire che sono tutti abbastanza essenziali no ok ho aggiornato anche il corso dei suoni a posto bene non l'hai sentito eh non l'hai sentito perchè è molto ta ve lo faccio sentire io diciamo barando è bellissimo si si è partito è partito non ci provate ah no non è partito scusate avete ragione eccolo vai ve lo rifaccio risentire scusate ta eccolo si si avete ragione non avevo attivato il suono scusate il volume per quel suono ok e va bene allora voi non sapete assolutamente quello che succederà questa sera ma tra poco lo scoprirete lo scoprirete vi diciamo metto subito le mani avanti per il momento questa prima serata è un esperimento che secondo me andrà andrà bene nel senso che proseguirò però mi riservo il diritto di di non finire questa cosa perché ora non voglio dare troppi indizi se no vi rovino la sorpresa però diciamo che è una cosa che ho già provato e che è stata dura all'epoca e e non so se sono diciamo nel nello stato fisico anche per continuarla vabbè adesso basta bello no vi piace bene sono contento io secondo me lo capite subito lo capite subito nel momento in cui vedrete la il layout che ho preparato voglio 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 vedere proprio le vostre reazioni in diretta vediamo intanto carico il gioco non dico niente aspettando le vostre reazioni sento già vedo qualcuno che ha iniziato a capire vabbè chiaramente non potete capire esattamente cosa però diciamo il genere si è quasi quasi questo è ragazzetti belli e ragazzette belle anche black crypt black crypt è un dungeon crawler alla eye of the beholder è uno di quelli tosti però eye of the beholder in confronto è credo mediamente facile ecco più o meno quindi è per questo che ho messo le mani avanti all'inizio e ovviamente come potete ben vedere dal layout lo continueremo a affrontare come siete abituati ad affrontare i dungeon crawler in questo canale ovvero con le mappe disegnate a mano se metti i giochi dell'amica voi blues brothers e caro mio c'è sta una fila da qui alla tiburtina come si suol dire tornano le mappe bravo franciccio esatto finalmente tornano le mappe non ricordo ovviamente assolutamente nulla di come funziona questo aggeggio delle mappe ma tanto che ci frega tutto anche a te pietro buonasera sei arrivato preciso preciso nel momento di rivelare al pubblico che ci segue da casa soprattutto ai bambini che questa sera inizieremo la serie di black crypt che è un dungeon crawler alla eye of the beholder e penso che soprattutto tu sarai abbastanza contentino di questa cosa tutte le strade portano sulla di bortino esatto blues brothers per te l'infanzia più degli altri lo so lo so però prima c'è la mia l'infanzia sul mio canale allora questo è il plotting il setting diciamo arrivato nel luogo della guerra nera della black war scopri che non sei il primo ad avventurarti nella tomba dei quattro eroi l'entrata che un tempo era sigillata l'entrata al dungeon è stata forzata e tra le varie ossa e reliquie che sono state lasciate indietro dalla dalla guerra ci sono anche i resti di dozzine di avventurieri sfortunati le loro armi e i loro diari potrebbero aiutarti a sopravvivere ai pericoli della cripta nera e quegli accanto credo che siano le classi perché allora io ovviamente non è che è la prima volta che lo avvio non ci ho giocato quasi per niente però diciamo ho capito grosso modo che le classi sono fisse in questo gioco non sono come in eye of the builder in cui potevi completamente crearti il party che volevi comprese le classi le caratteristiche dei personaggi eccetera qui ci sono delle classi fisse che da un lato alla fine ci può anche stare perché tanto alla fine più o meno i party che funzionano sono quelli quindi alla fine non è nulla di grave ecco ma la cosa fondamentale è che questo non è se non erro non è un sistema il sistema non è basato su dnd ma è una versione un po' più semplificata dei classici giochi di ruolo appunto basati sul d20 e basta non so altro quello è il flipper che si poteva costruire il flipper che si poteva costruire aspetta qual è io di flipper ricordo i mitici pinball fantasies pinball illusions che abbiamo tra l'altro praticamente fuso se ti ricordi da jojo a firenze durante un raduno me lo ricordo ah un'altra cosa bellissima è questa configuration menu configura la tastiera quindi non ti obbligano a usare per forza le frecce e quindi adesso io ovviamente imposterò la classica croce WASD che è molto più comoda questo non so cosa voglia dire salva configurazione direi di sì bene c'era un flipper non ricordo il nome in cui potevi costruire la board come volevi ovviamente non funzionava mai ovviamente perché certo ovviamente non non è che che uno è diciamo creatore di flipper di professione ok stiamo partendo io ho un po' un po' paura intanto dunque questo coso qui come funzionava allora salve buongiorno aspetta sto coso qui quindi scusate devo un attimo ricordarmi come funziona ok così perfetto per cancellare madonna me lo ricordo vi giuro che lo sto aprendo adesso ho solo salvato e basta tra l'altro guardate qui ci sono tutti ancora tutti i file di di ive the beholder anche di zach mck zach mckracken no scusate devo aprire facciamo un crossover temporaneo zach mckracken aveva una mappa ah sì aveva una mappa è vero è vero questa è la mappa dei collegamenti di zach mckracken disegnata ovviamente lì per lì bellissimo adesso scusate ma devo devo anche fare un attimo di atto di di nostalgia queste sono le mappe di ive the beholder 3 l'ultimo che abbiamo giocato insieme madonna quanti ricordi già mi stanno arrivando sono in parte contentissimo di di fare questa cosa stasera cioè di iniziare questa cosa e qua c'è il giardino di franciccio se non erro giusto no aspetta il giardino di franciccio era all'inizio scusate ma il giardino di franciccio merita una menzione speciale allora il giardino di franciccio era era il treno sì ah questa è la foresta mamma mia questa qui allora sì è vicino il giardino di franciccio dovrebbe essere eccolo questo questo è il giardino di franciccio strano che non ce l'ho scritto sinceramente franciccio spero che tu nel frattempo l'abbia curato perché ricordo che era un po' messo male il tuo giardino devo dire però vabbè ti perdoniamo ok questo è il file che ho creato appena poco prima della live che ovviamente è vuoto molto bene ci hai fatto dei flipper con con tortissimi che non funzionavano una sega perfetto no comunque non me lo ricordo non me lo ricordo questo qua hai visto che bella sorpresa Pietro non me lo ricordo questo coso questo simulatore di flipper allora aspettate scusate devo capire devo capire allora intanto ecco ecco questo è quello che vi dicevo prima il party è fisso c'è un guerriero un chierico un mago immagino e un druido voi potete selezionare semplicemente il ritratto che per fortuna cambia gilda dei chierici gilda ah perfetto ogni ogni classe ha i suoi ritratti ho dovuto chiamare una squadra di giardiniere ti credo io sono JFK per ora ma vi seguo con gli occhi che luccicano ok grandi JFK è bellissimo faremo una ricerca per scoprire il nome certo come no intanto ho tutto io sua amica allora intanto vediamo io direi di utilizzare i nomi dei dei sopravvissuti a Die of the Behold 3 che ovviamente adesso io non ricordo ricordo solo Margthor se non erro e Roywin che era la la maga credo però intanto ci metto un secondo che basta caricare un I of the Behold ed eccole qua allora Margthor sì Margthor era il il guerriero spero siate d'accordo con questa cosa di dare i stessi nomi quindi Marg H Thor Marg H Thor ok il chierico era se non erro Aesael il mago era Darsh ovviamente che c'è bisogno anche di guardare che non ha ovviamente quella faccia bruttissima e il druido in realtà non c'era nel mio party non c'era c'era se non erro una specie di ladro no il ladro non l'ho fatto nel 3 c'era Calandra che era l'altro guerriero Issharn che era l'altro guerriero ma quanti guerrieri c'avevo Bug che era non lo so un altro mago no però il 3 il 3 non mi piace come aspetta il 2 era quelli diciamo quelli storici erano nel 2 vediamo Marg Thor Calandra Dasha Esael Tirja 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 era la credo la la ladra però con l'arco quindi perfetta per no non c'è no non c'è la perché Go non c'è l'apostrofo vabbè Tirja senza apostrofo mi dispiace per te ah tra l'altro questa ma cos'è questa discriminazione sono tutti sono tutti maschi questa cosa non si fa sono tutti maschi ragazzi eh non è carina questa cosa però no ci saranno vabbè facciamo che il meno maschio di tutti è questo sembra una donna dai comunque non si fa sviluppatori siete cattivelli ah no questa è donna più o meno comunque Darci ovviamente il tizio con la barba il cappello e bene poi il chierico o la chierica che a quanto pare non è contemplata irgio no dai questa diciamo può essere assimilata a una donna ma anche questa potrebbe essere una donna dai e si facciamo così anche se non mi piace e ovviamente il guerriere deve essere quello proprio più ignorante di tutti se non è Romarktor era un nano questo non mi pare proprio un nano però mi piace come ritratto e i nano non ci stanno e che te devo di però mi piace l'idea del del guerriero questo facciamo questo Marktor questo a posto bene una donna piuttosto brutta si si una donna piuttosto brutta ma vabbè non è un problema non erano gender friendly negli anni 80 ma è strano sinceramente è strano perché comunque è un gioco di ruolo cioè vabbè niente che vi devo dire allora adesso devo distribuire immagino i punti che non capisco dove siano ah ecco il pool è 25 quindi attenzione il guerriero il guerriero deve vediamo il massimo quant'è il massimo è 20 il guerriero quindi facciamo una forza di 18 costituzione almeno 16 destrezza chi se ne frega intelligenza facciamo mediamente intelligenza poco saggio giustamente destrezza giusto per l'armor class non so come funzioni bene l'armor class teoricamente avrei anche il manuale di questo gioco non so se vi va di darci un'occhiatina anche proprio a livello di per capire più che altro le regole del sistema che hanno usato però immagino che sia abbastanza classico quindi la destrezza mi aumenterà un pochino la classe armatura però a questo punto io andrei proprio dico però la si dai forza facciamo 20 ma c'ho un pool enorme sbaglio ma è normale che ho questo posso fare davvero un 20 20 20 diciamo un po' meno stupido della media cinzia ga ga è bellissimo questo è il ga della visual novel non è il ga che mi avete segnalato dopo perché nel frattempo l'avevo trovato uso il manuale hai ragione hai ragione la voce della saggezza franciccio la voce della saggezza quindi adesso vi beccate il manuale abbastanza rapidamente devo dire però ve lo beccate anche voi è che lo bello eh facciamo che lo aumento un po' di bene allora configuration vabbè questo l'abbiamo visto il menu il party ok fate l'attribut fate l'attribut ok 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 druid name va bene vediamo se c'è scritto qualcosa sul sistema no per il momento non c'è scritto nulla sul sistema giusto no Pietro ha riscattato la spada di fuoco grande sì bellissimi programmatori raven software tra l'altro la raven software è una casa che esiste anche di recente quindi magari sono loro sempre super pompati eh ok Pietro ovviamente non ce l'ho pronto perché quello ce l'avevo pronto perché l'avevo fatto a fine live ma questo non ce l'ho pronto prossimamente lo farò sperando di trovare un campione pulito e soprattutto che non sia incasinato diciamo come suono però grande grazie di avere sbloccato tutti questi questi bellissimi suoni allora vabbè la quest la quest l'abbiamo più o meno capita l'action screen non ci siamo ancora arrivati scegliere un leader vabbè il leader lo scegliamo dopo questo salva il gioco e cose varie oddio certo vabbè no per il momento no ma non c'è scritto ah ecco character statistics no questo è minchia quanto è complicato no scusate devo capire le scroll incantesimi ok ma questo me lo devo madonna quanto è grosso sto coso questi sono tutti gli incantesimi vabbè poi c'è tutta la parte degli incantesimi va bene non c'è assolutamente scritto nulla riguardo al sistema di gioco bene quindi andiamo a così a sentimento che mi sembra giusto mi sembra giusto andare a sentimento perché insomma siamo in blind run di fatto no di fatto siamo in blind run quindi quindi io direi facciamo il mega certo però sapere che cosa no scusatemi ma sapere almeno cosa cosa influenzano cosa influenzano le varie caratteristiche almeno quello dai dimmelo dimmelo ti prego cioè lo posso intuire per carità gioco di ruolo da non lo so ormai più quanto dal 95 o meno seconda superiore non so quant'anni c'ho in seconda superiore 16 anni da un po' di tempo devo dire ok attenzione forse forse attributi se tu imposti il tuo la forza del tuo guerriero a 18 vabbè questa è una scemenza grazie al cavolo e va bene non c'è assolutamente scritto a meno che non è dopo no c'è pure il lore vabbè ci sono pagine e pagine di lore bellissimo dice facci vedere anche a noi no se no ci perdiamo qua a leggere il manuale facciamo la serata del manuale stasera invece me lo vorrei leggere me lo vorrei leggere per conto mio prima mi sa che non c'è niente attributi 30 centimetri quando i manuali erano belli ma inutili ma come ma come inutili no ma io me li leggevo sempre questo credo vada bene per la spada dei fuoco bene grazie me lo segno aspetta copio indirizzo e incolla indirizzo ok grazie mille va bene facciamo un po' così a cazzo di cane tanto vedi il mago intelligenza ovviamente quindi intelligenza il chiaramente il chierico dove è il chierico ecco il chierico intelligence sì che tra l'altro quelle che utilizzano sono sono quelle quelle tre in cui ci sono un po' più di punti quello che non vorrei che intelligenza 8 e wisdom 7 mi facesse cioè mi mi facesse dei malus capito diciamo in genere in dd 8 è la media senza malus quando vai sotto 8 c'è dei malus quindi magari possiamo fare una cosa possiamo almeno fare così 8 e 8 insomma perché malus proprio non lo vorrei speriamo bene speriamo che sia così il manuale si fa perdonare con le foto di quei bei ragazzi capito esatto colt giustamente mi suggerisce un attributo importantissimo in un gioco di ruolo aspettiamo il riassunto della loro no no dai e non lo so che facciamo 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 9 o 10 no però 10 è non lo so aiutatemi consigliatemi intanto vado sugli altri questo è il chierico il chierico deve avere wisdom super pompato la forza anche perché comunque picchia però picchia magari un po' meno del guerriero costituzione diciamo medio alta e il resto magari facciamo 10 possiamo far così tipo una cosa forse 10 no lui lui si basa si basa solo sulla sulla wisdom ok tu dici che per non avere malus devi stare a 10 sentite ma io ok che sono in blind run però vivo in tempi molto belli no black crypt malus vediamo senza andare ovviamente di spoiler o di che cosa e ovviamente non c'è niente perché al black crypt ci gioco solo io e un altro sfigato che però a quanto pare è francese bene molto molto bene però che cavolo scusate il manuale cioè queste cose me le deve dire siamo siamo veramente cioè iniziamo già malissimo eh no però se scrivo stats loro mi mettono quelle suggerite io non vorrei fare sta cosa perché poi mi influenzo capito comunque no non non c'è non mi sembra ci sia nulla che suggerisce c'è gente che diciamo stappa gli spumanti per averlo finito perché a quanto pare è molto difficile no 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 non è assolutamente D&D non è non è D&D è un sistema più semplice questo lo so abbastanza per certo sì sì lo so lo so che c'ho il pull ancora di uno volevo capire solo questa cosa delle delle caratteristiche vabbè gli vado a cercare sì allora finalmente ho trovato un un'anima che mi spiega che cosa cosa fanno le stats allora la forza è solo per quanto riguarda il danno che fai in melee quindi ok la destrezza ah no questo chiede questo attenzione lo sta chiedendo caratteristiche pene di segugio e game over in 3 2 1 perfetto esatto no questo lo sta chiedendo in un forum dicono che non lo sanno molto bene bene è non so il gioco più misterioso dell'amica che vi devo dire va bene ma noi ce lo giochiamo in modalità mistero che vi devo dire ok allora diciamo che a rigor di logica in dnd il massimo è 18 mi sembra che sotto 8 hai malus da 8 non hai malus quindi se qui il gioco ti imposta 20 io credo credo che non hai malus a 9 però se vogliamo stare tranquilli se vogliamo stare tranquilli io metto 10 però se vedete le caratteristiche base cioè alcune sono 6 addirittura quindi io credo che 6 sia malus ma 8 no perché altrimenti vorrebbe dire che ogni personaggio ogni classe ha due caratteristiche col malus che mi sembrano un po' troppe anche però anche anche nonostante questo però tu hai un pool bello grande devo dire nell'era di internet internet non serve a un cazzo esattamente esatto ho un pool della madonna però non vorrei non vorrei che sia talmente difficile che sto pool è poco in confronto a quello che ti servirebbe non lo so vabbè facciamo che facciamo che a 9 che vi devo dire a 9 ci manteniamo sul 9 o sul 10 secondo voi per non avere per non avere malus intanto aumento qui il mago chiaramente il mago per esempio a parte sì un po' di armor class io potrei tipo stare abbastanza ma almeno se puoi boostarle sì l'unica cosa che c'è scritta nel manuale è che ci sono oggetti ovviamente ci sono oggetti che ah voi dite che nel momento in cui apro il diciamo il come si chiama il foglio con le caratteristiche del personaggio dentro il gioco lui forse mi mi indica i malus eventuali no no pietro non si ispira a dnd no altrimenti lo so che 8 è senza malus questo non questo ha un sistema semplificato tutto suo è per questo che stavo cercando in giro vabbè allora forza 20 destrezza armor class quindi direi che la lasciamo abbastanza alta questo facciamo mannaggia sta cosa non la so io è così semplificato che sono cose che dovrebbero dirti nel manuale secondo me dovrebbero dirti queste cose nel manuale ma qua non ci stanno scritte però sto cercando di capire se magari mi sono come si usano gli oggetti come si usano le pergamene come si dorme come si usano gli incantesimi come si usano le armi come tutto c'è c'è tutto ovviamente ci sono tutti gli incantesimi c'è la lore e niente vabbè molto 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 complimenti pur essendo semplificato non credo abbiano fatto senza basarsi su niente in fondo i giochi di questo tipo erano quelli secondo me 8 va bene però io vi ricordo che 18 era il massimo che potevi impostare in AD&D non vorrei che visto che qui a 20 devi salire a 9 capito quindi per sicurezza dai vai a posto per sicurezza facciamo 9 e gli mettiamo un punto in costituzione dai basta allora Aesel è la chierica quindi la chierica dà le mazzate più deve essere wisdom qui lo lasciamo a 9 costituzione destrezza per la classe armatura beh lei dovrebbe essere dovrebbe andare in prima fila quindi io la destrezza gliela metterei a lei no la forza gliela metterei altina ma non eccessivamente così così allora io ve lo ripeto per la quarta volta non si basa su D&D è proprio è una cosa risaputa non è D&D questo altrimenti ci sarebbero tutti i simboli in giro per il manuale quello lo so cioè non è D&D quindi hanno che ne so hanno esemplificato alla grande avranno messo tre scemenze in croce sicuramente e sicuramente più o meno l'impianto è quello ma non è non è D&D direttamente quindi non essendo D&D non non puoi sapere come funziona poi effettivamente quindi abbiamo detto lasciamo 9 per sicurezza l'intelligenza al massimo direi che possiamo far così comunque è un pool enorme mamma mia ma guardate che posso fare col mago wisdom secondo voi a che serve il mago non mi pensa che gli serve a niente a wisdom ma lasciamo così non si può basare su nulla si no si può basare su un qualcosa che ti inventi tu c'erano diversi 18 che potevi mettere ma solo per specifiche razze ok è il massimo poi certo il druido è quello che mi mette un po' più in difficoltà perché credo che debba avere wisdom alta perché il druido se non erro lancia le magie però va anche fisicamente perché credo almeno in questa versione del loro sistema credo si si trasformi no quindi quindi se si trasforma ovviamente non prende questa forza prenderà quella del del coso in cui si trasforma quindi io la costituzione gliela alzo madonna ma ma cioè sono sono un po' a disagio con un pull con un pull così alto vabbè comunque non lo so facciamo così che dite questo per esempio è inutile glielo lascio sulla destrezza e lo sai che ci ho pensato in effetti colt solo che se non sbaglio sempre basandomi ovviamente su dnd perché chissà se loro hanno fatto la stessa cosa quando il druido si trasforma lui prende caratteristiche dell'animale in cui si è trasformato non cioè quelle tue diciamo che vengono tra virgolette sovrascritte però però aspetta forse gli incantesimi ci sono aspetta 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 forse in questo senso ci sono gli incantesimi magari me lo dice allora incantesimi che le ricali incantesimi di druido allora chaos protection light shield quake no no non si trasforma niente il druido dispel magic chaos reggi reggi leggi rune protezione light swarm dismiss shadow shield niente no 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 non si trasforma quindi chi se ne frega della forza quindi il druido praticamente che fa è un caster è un caster che cura ok adesso sono pochissime sono pochissime sono pochissimi gli incantesimi non è una cosa enorme come come dnd quindi ora magari ce li studiamo però ok bene e buongiorno quindi un po' di forza ci vuole no sei un mago praticamente è un mago che si è un misto è un misto diciamo il chiarico è un un guerriero diciamo tra virgolette e un curatore diciamo fa protezione eccetera mentre il druido è più diciamo più un mix fra il mago e il chierico sì sembrerebbe di sì non so che tipo di armi abbia ma non credo che faccia niente con la forza anche perché vedi che è bilanciato così no alla forza ce l'hanno i due che stanno avanti in pratica dietro ci sono i caster ma secondo me va bene così io vado però ho un po' paura devo dire ok salviamo subito come game A un malico e un chiego esatto ora ora ci mettiamo anche a leggere un pochino le gli incantesimi perché anche se non serve forse adesso perché non ce li ho quindi ce li leggiamo piano piano mamma mia sono emozionato e intimidito senti come come carica quanto carica oh ma tutto bene voi in famiglia io io carico nel frattempo ma era enorme come gioco pensare che adesso con la ps5 esatto no in realtà io potevo anche installarlo su hard disk farlo più veloci però mi piace proprio l'esperienza originale infatti se sentite c'è anche il rumore del drive si sente no? non so che volume avete voi l'audio la spada de foco come lo metto il comando proprio punto esclamativo spada de foco o spada e basta spada de foco vabbè intanto qui carica qui carica quindi full down ah non posso no è a minuti quindi non posso mettere frazioni di un minuto a tradimento è bellissimo è vero oh ma che stai a caricare ma stiamo caricando dark souls ma noi ero al telefono e non ho visto nulla guarda ti sei perso la creazione dei quattro personaggi che diciamo ci ha voluto un pochino perché non sappiamo bene su che sistema è basato cioè so che non è basato su un sistema conosciuto è un sistema che hanno fatto loro molto più semplificato infatti ci stanno tipo quattro incantesimi per ogni livello e poche altre cose le classi sono fisse però c'è un pool di punti iniziali da assegnare che è enorme quindi un po' mi ha spiazzato questa cosa in genere quando il pool è così grande o stai citando o secondo me si è impallato completamente sta sta caricando niente o diciamo stai citando oppure il gioco è talmente difficile che possono permettersi di farti fare personaggi super forti oh ce l'abbiamo fatta che bello dopo sei minuti di caricamento tu avresti già spento eh ma all'epoca stavi lì con la bava voglio giocare click the mouse e clicchiamo the mouse e dopo ben 40 minuti eccoci ok allora intanto vorrei capire la dov'è la bussola ah bene questa cosa è buona nel senso quando io premo una direzione voi sapete quale direzione ho premuto perché si preme il tasto ed è molto buono la cosa non buona è che non c'è il nord non c'è non c'è la bussola oddio mio ok salve allora qui abbiamo giustamente la disposizione quella giusta per sparare ok per sparare per attaccare si fa così loro ovviamente non attaccano perché sono indietro bene poi cliccando qui click on the person you want to move ah ok qui serve per spostare le cose ok poi ah ah vedi armor class 10 come armor class 10 ecco ecco attenzione armor class 8 armor class 11 perché perché lui c'è una super armor class non si sa questo pulsantino qua cosa è ah questo è il leader l'ho letto adesso sul l'ho letto sul manuale che credo che debba sicuramente aprire molto presto perché non ci sto capendo niente poi buongiorno ah questo serve per salvare o o dormire ma è bellissimo guarda che animazioni ok però vorrei capire dov'è il dov'è dov'è ma sotto hammer che scorre così no le classi sono fisse sono guerriero chierico mago e druido sono fisse perché gli hai messo destrezza a pippa a chi no ma che scherzi questi due c'hanno coso marktor c'ha una destrezza quasi al massimo eppure dirgia lei forse però lei aveva la priorità sulla wisdom è un chierico ma io non voglio non voglio spostarli scusate ma dov'è il character sheet ah ok ma scusami ah devo cliccare col destro qui anzi ovunque ah bene il destro fa ah beh questo è comodo devo dire complimenti allora mamma mia allora qui scegli il personaggio qui c'hai l'inventario molto carino qui c'hai immagino hp mana e vescica questa è la vescica quando devi far pipì questo non lo so cosa sia coordinate 0 21 oh a 15 la mappa questi sono gli incantesimi questo è una bag ok questi sono gli incantesimi ah ho light e healing bene interessante questi sono di secondo livello terzo livello compagna bella mentre qui c'è il mago wizard sight che è credo memorizzato e lo shield che non è memorizzato ok interessante poi non è non è proprio immediato però è molto molto semplice devo dire molto più semplice di eye of the beholder grazie al cavolo abbiamo detto che è semplice ok questo è uno shield che ovviamente lo mettiamo a lui poi c'è un backpack come 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 scorrono sotto le cose è bellissimo devo dire backpack backpack posso aprirlo no salve vorrei aprirlo ah posso mettere uh bello qui c'è un po' di cibo ok simpatico sta roba qui che è secondo voi il simbolo della gilda si probabilmente è il simbolo della gilda questa cosa sopra non so cosa voglia dire e e io devo assolutamente trovare il nord cioè aiuto il nord ah a pippa è il massimo ok e il mago ha più armor di tutti sì infatti ma le l'unica cosa che mi manca sono le caratteristiche proprio secondo voi devo guardare il manuale vero scusate scusate sarà una serata un po' un po' atipica poi dalla prossima partiremo però devo assolutamente guardare il manuale e ovviamente lo faremo insieme perché non vi tolgo certo questa questa gioia allora molto velocemente intanto sono poche pagine questo l'abbiamo fatto il movimento l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto a posto la quest non ce ne frega niente questo si muove allora qui è current characters name current e va bene qui c'è ah current vuol dire quello selezionato al momento quindi così stai selezionando gente ok vabbè current characters spell oh ah ok ok è chiaro qui compaiono gli incantesi in modo che tu ce li hai direttamente pronti quindi se io adesso dormo tutti tutti svegli io adesso dormo non succede assolutamente nulla bene ottimo rest in disco ok questo è bene active duration spell ah la durata dell'incantesimo attivo compare qui ok left hand ok questo è il leader vediamo il leader che vuol dire il leader è il caratter che ah che manipola l'ambiente tira le leve preme i bottoni e cose varie e i suoi attributi decidono quindi se se quello se l'azione che stai facendo viene effettivamente fatta o no quindi immagino che tirare tirare cose ci voglia forza e non so però se per premere bottoni e cose del genere ci voglia intelligenza spero di no perché altrimenti siamo fritti ok ok va bene opzioni del disco vabbè questo serve per salvare cose varie mettere in pausa quitting e moving your party va bene ok inventario qui c'è il il tizio vabbè questo è l'inventario non ce ne frega niente questa è la diciamo la barra che prima avevo detto che era la pipì in realtà è la stami scusate è la fame è la fame sì la prima serata ci sta dai grazie per le per la beuta molto molto apprezzata perché stavo già morendo di sete ok poi e poi hai diversi slot per dei contenitori vedete cioè ci sono le chest non so delle scatolette c'è una faretra e c'è una sacca e poi ovviamente lo zaino e questi due contengono gli oggetti questo qua no non lo so va bene per attivare l'inventario ah per attivare l'inventario clicca e premio f1 f2 f3 ah vediamo ah perfetto ma così è un po' più comodo vabbè io posso cliccare qui la stessa cosa ok le statistiche oh le statistiche dove sono left bounce button on the hit points football ah quel qui devo cliccare ah senta madosca alleluia allora vabbè ok sì queste sono le statistiche attuali e eventuali cambiamenti di stato che hai punti esperienza e cose varie va bene non mi aspettavo qualcosa che mi spiegasse le cose ma vabbè poi ci sono i bonus magici che è quello che vi dicevo prima ovviamente se hai una per esempio una cintura che ti dà più 1 a forza hai ovviamente il relativo aggiustamento ci sono anche quelli negativi che appaiono in rosso va benissimo se sei affamato diciamo malato stanco eccetera eccetera cambia il colore di di questa qui e ti scrive appunto in che stato sei ok poi ci sono le cose che hai addosso tipo le armi l'armatura e pezzi di vestiario tipo bracciali eccetera eccetera accessori eccetera eccetera va bene per indossarli ce li trascini sopra il cibo lo puoi trovare in varie aree e spero che io in questo momento non stia perdendo sì sto perdendo tempo cioè non perdendo tempo sto sto diventando affamato mentre mi sto studiando il gioco bellissima questa cosa vabbè adesso metto in pausa e ok quando avete fame o sete prendete punti ferita e stamina e destrezza sono sono abbassati cavolo questa cosa in questa cosa c'era in eye of the behold però era molto molto diciamo marginale perché c'era per esempio il mago che aveva un un incantesimo con cui mangiavi quindi spero che ci sia ci sia anche qui holding items ok poi ci sono tutti i vari contenitori che contengono appunto oggetti cioè un numero di oggetti diverso e va bene ok prendere e usare gli oggetti poi ci sono le placche vabbè queste poi mano a mano che le incontriamo ok e ci sono le pergamene eccetera eccetera e delle gemme che ti permettono di resuscitare i membri del party bene per riguadagnare stamina e hit points o per passare il tempo in modo che i utenti scusate i magic user insomma possano rimparare i loro incantesimi dovete dovete far riposare il party ok col pulsato sinistro si risvegliano ho capito ma per quanto tempo devo per quanto tempo devo farli dormire per riguadagnare tutti gli incantesimi basta semplicemente una cosa del genere non si sa vabbè il simbolo incantesimi il ok vabbè queste qua le abbiamo già viste per memorizzare devi cliccare sull'incantesimo immagino ah vediamo un po' questa cosa non l'ho ancora capita per esempio lui lui ha wizard site ah vedi ecco così lo impari vedo lo memorizzi gli altri o questi sono quelli pronti forse sono quelli pronti forse sono quelli pronti sì mi stai memorizzando giusto immagino di sì no perché poi se io vado qui ah eccoli me li ritrovo ah carina questa cosa ok quindi lui ha light e healing lei ha wizard site che non so cosa sia ora lo vediamo subito dal manualo ah ma voi state ancora vedendo però il manuale giusto sì adesso manca la bussola e mi sa che la bussola non c'è per lanciare gli incantesimi devi devi fare cose che abbiamo visto ok per usare le armi lo sappiamo attaccare i nemici lo sappiamo armi speciali ok perfetto e qua poi inizio a parlare delle degli incantesimi per esempio quello che dicevo prima è withersite automatically maps parties progress through the dungeon what c'è una mappa interna no 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 scusate aspettate io la faccio a mano la mappa per carità però se mi aiuta se mi aiuta lui andiamo oh che figata quindi c'è il mago che ha la la che no questa cosa è bellissima cioè il mago ha l'incantesimo per mappare dica che è successo che ho fatto non vedete niente si state vedendo sei contrariato franciccio si posso capire che tu sia contrariato ma io la mappa la faccio come puoi ben vedere adesso guarda ora ho scoperto che il nord era quello questo qui quindi vado stiamo facendo la mappa e come vedete io sono perfettamente certo che è un casino però senza sapere se sto a nord o a sud mamma mia ma chi me lo fa fame ve lo spiegate credo che sia una cosa del genere giusto ok no però non mi piace non mi piace questa cosa qui questa è così ok vediamo un po' quindi se io adesso vado qui lui mi sta mappando tutto il mago ma è bellissimo posso posso confrontarmi ho sbagliato ho sbagliato infatti beh questa cosa è molto bella no e voi dite vabbè ma a sto punto allora che cosa che cosa fai a fare la mappa a mano non lo so decidiamo ma a mano a mano che andiamo avanti io magari posso consultarla ogni tanto il mago scout no questa cosa è bellissima comunque ok tra l'altro dura un fottio questa magia va bene lo shield immagino che sia lo shield caos non so cosa sia reading rune non so cosa sia protection non so cosa sia ora lo scopriamo subito allora light vabbè light ovviamente dispel darkness no quello è il druido caos è fai da 2 a 8 punti per ogni livello del 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 caster diciamo read rune vabbè read rune ovviamente e protection da più 1 a protezione per ad un ad un membro del party più un ulteriore 1 per ogni 2 livelli oltre il quarto protezione che sarà classe armatura va bene allora devo già salvare secondo voi no che ci frega il problema è che adesso non so dove sto andando no ragazzi ma la bussola ce la dovevano mettere porca miseria andiamo guarda qui dietro giacciono le tombe degli eroi la tua strada è complicata è difficile cose molto complesse ok allora credo di essere ad est qui giusto quindi ad est abbiamo 1 e 2 e c'è una porta subito e la porta come la facevamo la porta secondo voi come la facevamo la facevamo che l'apriamo direttamente infatti e questa cosa qui che cos'è non si sa poi altri 2 ah qui c'è la chiave ci vuole una chiave già vi ricordate come facevo questa cosa della chiave porca non me lo ricordo proprio la chiave no questo era tipo il portale ah forse forse queste cose qua si tipo window una cosa del genere non me lo ricordo raga ah no questo no questo era l'interruttore lo ricordi franciccio come facevo le porte chiuse vabbè tanto è chiusa ciao poi andiamo a sud 1 2 3 4 e 5 3 4 5 non te lo ricordi e poi mamma mia sto già impazzendo oh guarda un po' qui abbiamo un gustosissimo ah vediamo un po' se faccio così no come faccio oh bello ok e la chiave ok la chiave ora ce l'abbiamo nel frattempo qui fa così e scende vediamo se il mago mi conferma scusi mago mi conferma mi conferma mi conferma questa cosa questa cosa è bella eh buh ok poi credo no sbagliato così potrebbe sembrare uno di quei classici casi in cui chiedi proprio genuinamente allo streamer ma chi cazzo te lo fa fare eh la domanda è lecita ragazzi ma io non lo so non lo so mi piace mi diverte un sacco non lo so perché è una cosa lunga e tediosa ma mi diverte oddio oddio che cazzo cos'è allora facciamo così qui ci mettiamo una comodissima cosa del genere tipo così e vediamo aiuto cosa sto facendo dov'è eccolo ok ehm salvo salvo perché vorrei capire se questa cosa mi fa male o secondo me mi fa malissimo save and play game A allora vi immaginate non funzionano i salvataggi e la prossima volta tutti belli felici carichiamo il gioco e non funziona e lo chiedevi anche per Yahweh of the Beholder è bello bella domanda in effetti ora ovviamente la cosa non si ripercuote solo su di me non è che io sto qui a fare cose che a voi non piacciono quindi se vi se non vi sentite pronti per questa avventura me lo dite e cambiamo cambiamo la mia è una proposta ovviamente direi che è tipo un numero di forza che devi sbloccare per poter passare un muro scusa ci sarà una una leva si si mi piace certo che quando salva salva tanto eh scusi ho cambiato idea non voglio più salvare ma quindi tutto il tempo di prima era il salvataggio ecco in questo Yahweh of the Beholder era molto più molto più rapido ok giuro che non salvo più vado avanti provo ok mi ha semplicemente fatto male sto per dire di ricaricare perché mi ha fatto malissimo io ci sguazzo cosa cazzo cosa è oh sta roba forte però gli incantesimi sono molto 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 belli l'ho ammazzato? no vabbè ma tanto adesso io cioè ah però aspetta posso 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 dormire scusate eh mi rintano nel mio guscio qui vediamo se dormo ah vedete ok beh me la son cavata egregiamente che cos'è sto cosa secondo voi? non mi piace quello a fare lì oh niente ah sono i due si si ok ok lo so lo so questi sono i due ma non volevo la mappa ok sono i due incantesimi che ho che ho lanciato e mi sta dicendo che ce n'è uno di durata boh e uno di durata un po' più grande va bene per te va bene ti riporta la mente a tanti ricordi no è vero è vero anch'io è da tanto che volevo farlo se vi ricordate volevo farlo con quel gioco steampunk che si chiamava porum che poi però ho fatto per conto mio quindi e mentre lo facevo mi mancava il fatto che eravamo in live e non mi cancella questo coso come si fa secondo voi a cancellare cose cancellare cose icon no le light edge no select terrain ah eccolo qui così me ne è fatta aspetta ma se faccio così ok poi lo scoprirò come faccio allora quindi 1 2 e 3 e c'è un'altra un altro incrocio e non ci sono i save state diciamo di sì però non lo so è un po' più è un po' complicato utilizzarli col sistema che sto usando io io ci sguazzo nel fantasy non c'è problema direi che hai preso bei danni sì ho preso dei bei danni però per fortuna si può dormire anche abbastanza agevolmente in questo gioco quindi scusate se sei poco attivo no ma per carità figurati ci mancherebbe non non mi sentite più what no qui è tutto regolare tutto regolare allora vediamo se il mago conferma colpa tua sì il mago conferma perfettamente la mia stupenda mappa beh questo non è citare cioè è il mago che lo fa quindi allora andiamo di qua non ci andiamo ci sono i passaggi segreti vi ricordate i passaggi segreti in Eye of the Beholder qua invece c'è un coso sotto che è vuoto secondo me ci sono i passaggi segreti in questo gioco ma poi tre beh dai ci sto riprendendo la mano guarda lì sopra guarda lì sopra che c'è è un interruttorio quindi ora posso usare oddio chi è no 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 non ho più incantesimi ah quindi quel simbolino accanto a quell'affare rosso sono i danni che gli faccio mazza mi ha quasi mi ha quasi fatto tanto male dormi dormi ok adesso scusate ma volevo capire come si fa cioè volevo ricordarmi più che capire ah devo rimetterli ogni volta ok sono rottura di scatoline però vabbè per esempio in eye of the beholder ti selezioni nella schermata iniziale tutti i ma questa è una serratura se non erro ti selezioni nella schermata iniziale tutti i gli incantesimi che vuoi memorizzare lui poi ovviamente mano a mano che li usi te li toglie però quando resti te li rimette tutti automaticamente invece qui devi andare a farlo a mano almeno così sembra poi ma scusami ma non eri morto madonna Markthor è una macina pura sto gioco eh dica is over nine to the end esatto l'interruttore è al 9000 sono bravo a fare il cartografo anche senza mappa hai visto praticamente è pixel dungeon il mio amato pixel dungeon solo con la telecamera dentro il personaggio più o meno che facciamo lo usiamo questo interruttore il problema è che adesso abbiamo attivato qualcosa e non sappiamo che cosa però aspetta non sono scemo è che così non so che cosa ho acceso quindi abbiate pazienza poi ci andiamo giuro dove sei? chi sei? aiuto ah ma questi questi non sparano ah questo sparare il coltello è bellissimo ma quanti siete? madonna quanti siete però ah aiuto tirgia ha preso un livello aspetta però io devo assolutamente stare in un posto sicuro la mia cosetta qua allora tirgia ha preso un livello quindi che devo fare? non so neanche chi è tirgia chi era tirgia? ah era il druido vediamo druido li 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 ma non c'è scritto il livello dei personaggi scusate non c'è scritto il livello dei personaggi va bene ah ora ha guadagnato dispel magic bene è bellissimo questo gioco nella sua ingenuità dai chiamiamola ingenuità ok salviamo cioè riposiamo mannaggia tirgia e marktor anche marktor ah bene bene ah eccolo livello scusate mi sono scemo io eccolo il livello eccolo eccolo si grazie grazie ciao rakum buonasera ben trovata classe armatura quindi ovviamente ora lui perché lui adesso ce l'ha più bassa perché gli abbiamo messo lo scudo giusto? esatto ok ok non ho capito perché prima era 8 comunque vabbè non chiediamoci queste cose ah ok ah quelli che non ho usato però giustamente lui me li rimette cioè me li lascia ok va bene va bene no problema perfetto dai ci sto capendo qualcosa è carino devo dire è carino non abbiamo lootato nulla finora abbiamo un problema di cibo ma va bene va bene così ok ok ti sei appena svegliata ben svegliata direi hai visto che prosciuttoni che si trovano nei dungeon si chiama Black Crypt è un dungeon crawler alla Eye of the Beholder risalente ai mitologici e nonché fantastici anni 93 non te lo dico forse te lo dico te lo posso dire no non c'è scritto però sì 92 avevo sbagliato di un anno 92 ok torniamo fuori dalla mia adorata cripta mi protegge è pieno di di vicoli c'è chi o sbaglio c'è qualcosa c'è qualcosa c'è una pergamena 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 così e poi così e così ok pergamena vediamo old scroll come si usa non vorrei sprecarla ah reader no reader 1 non c'è tra niente come faccio a usarla secondo voi ma che le cose criptiche proprio non lo so non lo so come si fanno a usare un gioco brutto che piace solo a Darsh d'altronde sono animali notturni giusto black crypt è un gioco esatto è un gioco che piace a noi vecchini subito prima della fase dei cantieri esatto comunque che devo fare con le old scroll ragazzi aiuto dice io che ne so sto giocando anch'io insieme a te c'hai ragione ah qua abbiamo un vicolo cieco più lungo attenzione ci sarà un bottone segreto o magari aspetta aspetta vedi vedi che non ho perso il tocco magico magico 1 2 3 quindi questo è diventato così con un interruttore ulteriore come era per girare sto coso z no z è troppo x ok così bene tu intanto cosa sei gauntlets ma ma non c'è il posto per i campi ah li devo mettere al posto della ok non cambiano la classe armatura che cosa fanno cosa fanno aiuto vabbè saranno non lo so non si sa ok qui c'è un altro interruttore vediamo se esatto vediamo se l'interruttore apre cose di qua ah no per il momento no no quindi lo riapriamo e vediamo no aspetta no aspettate eh cerco un attimo di capire che cosa ho appena aperto perché questa forse no si questo ho aperto uno e due qua sono qua ma questi pensano di fregarmi così pensano che io mi perdo principianti attenzione perché a parte il perdersi ma qua se casco c'è una bella figura uno e due uno questo è così e qui c'è un bellissimo elmo stavo per dire elmetto ma no decisamente non è un elmetto classe armatura quindici daje poi salve io me so perso mezz'ora fa sto ancora LL e Stites io me so perso mezz'ora fa è bellissimo ok aspetta eh aspetta che qui molti disegno delle cose bellissime allora qui c'è una colonna che noi disegneremo in modo molto realistico come la disegno vediamo pillar stone pillar stone pillar stone mi piace beh ma però c'è da dire che quella lì è quadrata lo so che sono un rompivalle pignolo però che vi devo dire mi disegnano così quindi io la faccio così pillar stone e qui c'è un buco e voi bambini che mi seguite da tanto vi ricorderete che i buchi io li disegno così pam eh bello vero salviamo perché ho paura che lo cancello in qualche modo ok chissà se i prosciutti sono le cosce dei predecessori stagione stagionate sapientemente dai beholder mi sa proprio di sì mi sa proprio di sì non sanno con chi hanno a che fare esatto franciccio cioè ma proprio ma proprio no marquis sì era quello il comando sì sei in letardo raccoon era un femole per terra nel 92 c'era già super mario da quasi beh ma questo è avanzatissimo ma che scherzi tu dici di salvare anche nel gioco ma poi stiamo qui tre ore io qua sotto potrei cadere ma non ci cado aspetta c'è qualcosa qui un una scroll un glifo capito io come le uso queste cose però scusa l'ho usata no l'ho messa me la sono messa vabbè poi scoprirò come si usano queste cose e questa è una borraccina d'acqua ok interessante molto bello va bene quindi direi che adesso facciamo il wizard site e vediamo se ho disegnato bene la mappa giusto giusto lui adesso mi prende solo quella che ho fatto fino a quel momento perché questa parte qui non la non la conosce lui bravo sei intelligente signor wizard site ecco qua direi che l'ho fatta bene no manca tutta questa parte qui ma perché lui non non c'era ancora ok allora torniamo di qua e continuiamo dunque stavo facendo questa credo giusto sì ok siamo qui bambini siamo qui non vi perdete perché mi sto perdendo io ok qua si gira con 2g mi raccomando ma siete maledetti però a farmi queste cose oh attenzione qua si gira di qua ci andiamo dopo qui sotto ci sono due cose no devo assolutamente proprio in modo totale capire come si usano quelle cose scusate proprio bene devo devo fare dopo una capatina come diciamo a Roma al manuale ok qui siamo così e attenzione attenzione perché qui ci riallacciamo alla zona iniziale madonna mia ma sono veramente forte ma forte per dire forte bambini non perdetevi nei dungeon misteriosi esatto bambini esatto non perdetevi nei dungeon perché poi chi vi viene a tirar fuori io no sicuramente io proprio no e va bene ora però mi sono perso dove sto ok sto lì direi di andare di qua allora adesso di qua non so il motivo ma mi è mancato un sacco fare questa cosa non lo so perché sono sono un masochista che vi devo dire qua c'è un qua ci sarà qualche po' uh buongiorno vado secondo me dovrei salvare però eh e devo anche scoprire aspetta allora facciamo così salvo mi è mancato perché ti droghi male hai ragione salvo e visto che ci mettiamo tre quarti d'ora nel frattempo andiamo a vedere queste piccole cosine nel manuale mi raccomando fate i bravi mi raccomando fate i bravi eh bambini allora action screen dove stavano quelle cose bellissime holding items ecco 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 questi qua allora le placche le placche devi piazzarci il cursore sopra e premere il pulsante sinistro e la leggi se non riesci a leggerla devi usare l'incantesimo del chierico è quello read runes perfetto ok ci siamo poi information on scroll devo mettere il cursore sulla scroll e premere il pulsante sinistro puoi trascinarla sulla faccia di un personaggio e premere il pulsante sinistro e il messaggio apparirà ah però attenzione perché ci sono delle false con la z false ehm pergamene e dovremmo teoricamente usare dispel illusion e reveal truth per diciamo smascherare queste false pergamene però visto che nessuno dei due incantesimi ce li ho per il momento immagino che non li trova che io non li trovi questi trucchetti qua il mio il mio subconscio voleva fare il cartografo sulla faccia di un personaggio esatto ma la spiattello in faccia ok quindi questa ora la leggiamo poi spell clicca il mouse sinistro per prenderla trascinarà sulla l'action hand ah perché il mago giustamente credo che l'action hand sia questa questa qui ah ok 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 quindi la devo mettere al posto della dell'arma diciamo io da grande farò il pompiere grande grisù e comunque noi abbiamo un pompiere nella community della darsh tv un tizio pompiere per la precisione che si chiama dino dino pandino quindi devo metterla qui e usarla va bene però che cioè come faccio a sapere cosa sto usando che le uso così a caso le le pergamene quindi la posiziono poi clicco col sinistro sul sulla faccia del personaggio ah i contenuti appaiono ah fico ok fichissima questa cosa benissimo poi viva i pompieri di vijù viva i pompieri di vijù esatto l'ultima cosa è una tavoletta per leggere una tavoletta devo mettere il cursore premere il pulsante sinistro per prenderla devi far caso al simbolo che c'è sulla tavoletta devi trascinarlo sul corrispondente nome del personaggio ah ok ecco che cosa sono quelle cose sono delle tavolette che magari sono diciamo leggibili solo da una determinata gilda bene ok vabbè in qualche modo ce la faremo più o meno speriamo allora intanto dovevamo la faccia vabbè è uguale da qualche parte devo trascinarla allora intanto proviamo a fare quella cosa della questa qui ok eccola qua allora qui dice che la lama degli ogre quindi ogre blade è maledetta le sue vie sono malvagie diciamo se entri in possesso di questa lama malvagia la tua forza vitale lentamente svanirà ok grazie dell'avvertimento molto gentile poi altra cosa è la pergamena questa qui mi si diceva di fare di fare così quindi teoricamente ora se faccio così ah eccola qui vedi ah rimuovi glifo gli incantesimi di questa pergamena vengono lanciati come se fossero di terzo livello rimuovi glifo rimuovi glifo che cavolo rimuovi glifo posso immaginare però che tipo di glifo scusate rimuovi glifo rimuovi glifo glifo di protezione sarà quindi ah non è uno di quelli che ci avevo detto prima di stare attento alle pergamene no quello era reveal truth ok allora aspettate che lo cerco ma perché è importante rimuovi glifo rimuovi glifo rimuovi trappola trovato intanto non c'entra niente rimuovi glifo è un incantesimo da mago quindi rimuove appunto un glifo che protegge rimuove un glifo di protezione ok dal percorso del ah forse era quell'affare lì che abbiamo visto quell'affare quel triangolo rosso che abbiamo visto prima che ci sono sbattuto addosso e mi ha fatto malissimo forse quello era un glifo di protezione molto 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 bello questo ok mentre tu questo mi piace parecchio questo mi piace parecchio resuscita ai morti resuscita ai morti sarà un incantesimo del necromante e necromante ci sono anche i necromanti bello però non è non è non è del necromante stranamente va bene e allora dov'è vabbè ah eccolo 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 risuscita ah no questo risuscita proprio un un membro del party che è morto ah ok però devi avere devi avere una una gemma della morte nell'altra mano quindi serve un serve del materiale per farla questa cosa vabbè questa non la farò mai ovviamente proprio proprio ciao darch scord della sta cosa perché anzi visto che tu lanci il coltellino e facciamo così ok vi leggo la spada di chris isaq quindi mai usare la ogre blade esatto scriviamoci da qualche parte il formaggio credo che lo faranno con le caccole di beholder credo di sì afroamericano mante sì è clericale però non era necromante perché io pensavo fosse tipo fai fai insomma fai anima i morti che combattono al tuo fianco invece no era proprio resurrezione ecco va bene siamo qui però io mi sto allontanando dalla parte iniziale secondo me nella parte iniziale ci sono le cose proprio base io sto andando proprio da tutta altra parte ci frega qualcosa no ci frega però vedo una morti una morti esatto no qui oddio oddio c'è un coso un tizio coso tizio coso sbagliato mi sono messo nel ok mi ha preso sì tutti hanno hanno preso un aspetta che chiudo la porta e faccio faccio hanno preso tutto il livello ma siamo tutti livello 2 allora caro d'arch tu hai sempre wizard sight compass ciao tizio coso ciao tizio coso ragazzi scusatemi ma avete letto che cosa ho appena appreso non so voi ma io ma io lo adoro questo gioco ah perché dopo dopo sarò che cosa hai detto sarò dopo sarò diciamo limitato a questi slot 1 2 3 4 5 slot e basta dispel magic protection doppio ridrone perché ok così ah vedi vedi ok è tutto molto chiaro il massimo è 5 cioè tu puoi giustrarti con 5 incantesimi stop tra tutti quelli che hai memorizzato ok molto interessante questa cosa cioè se magari la prossima volta la scrivono comunque poi poi poison cloud bello light ce l'ho healing posso per esempio memorizzarne un altro reveal truth è quello che dicevamo prima vai 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 questo mi piace comunque ragazzi non so se avete visto ma io l'ho visto e quindi adesso eccola c'è la bussola cioè il fatto che la bussola e la mappa siano dei due incantesimi del mago è una cosa fichissima 5 per livello no 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 sono proprio 5 in tutto vedi che poi sono 5 in tutto vedi che cambi le pagine del livello ma queste qua rimangono sempre sempre gli stessi quindi devi devi giustrarti tu con 5 incantesimi che va bene giusto per carità è un po' limitante rispetto magari a dnd però che se ne frega è così e basta anzi è anche un po' più stimolante no ok credo sia così non lo so potrebbe essere così ma salve che è sta roba sto per morire ah era una pressure plate ahia era un interruttorio ma se il mago fa il lavoro dell'elfo l'elfo che fa l'elfo non c'è infatti aspetta che mi sto incartando con la mappa ovviamente perché inizia ad essere no 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 ho fatto un casino qui aspetta scusi mago mi mi puoi aiutare non mi puoi aiutare perché è svanito l'incantesimo ah ma mi si è chiusa la porta ecco perché no no la porta è questa ok eccola ok allora scusate questo è giusto questo è giusto ora sto qui praticamente è così ahhh ok ho sbagliato qui ok e così semplicemente è strana la prospettiva di sto gioco ok oddio non funziona più non funziona più ok ho preso un colpo qui era tutto aperto quindi fare fa così qui fa così qui secondo lui ci dovrei entrare ma non lo so se ci entrerò ok qui fa così e poi va giù e dopo dopo andiamo giù perché adesso devo capire scusi mago mi può confermare per favore quello che ho disegnato grazie ah allora sì direi che ci sono ah qui c'è una pressure plate giustamente devo metterla comunemente detto purzante il purzante come lo mettevamo col cerchio sì mi pare col cerchio ok quindi lì c'è il purzante lì c'è la porta che ti piacerebbe che c'entro e qui a posto bene ci sto ok il cazzo cattivo e discriminatorio l'elfo perché perché sei cattivo no l'elfo in realtà è il druido diciamo la bionda esatto la bionda è il druido no tranquillo sì 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 era chiarissimo quello che intendevi no diciamo il rug in questo il ladro in questo diciamo sistema non c'è c'è il druido che però non credo che faccia le veci del ladro in qualche modo perché mi pare di aver capito che non si scassina in questo gioco oppure forse il mago avrà qualche cosa per scassare accassinare le cose ecco però per il momento la classe più ambigua diciamo è questa qua del druido perché ha sia incantesimi di cura e quindi e di protezione sia incantesimi di attacco quindi che poi effettivamente è una sottospecie del druido di D&D ma senza i morphing è un po' particolare avrei proposto di chiamarlo Cinzia esatto gli elfi sono con una marcia in più il mago fa pure il ladro esatto esattamente allora qui siamo a sud no ok allora attenzione intanto qua c'è una colonna in mezzo e la colonna abbiamo detto che io la faccio quadrata qua c'è una bella colonna questa porta io non mi fido assolutamente di questa porta mi verrebbe da salvare devo dire verrebbe da salvare però ci mette tre ore quindi non lo so comunque è figo che devi disegnare la tua mappa col mio scarso senso dell'orientamento questo gioco mi sarebbe durato in eterno allora in realtà come puoi vedere il mago a questo incantesimo dove porta questa porta dove porta chi lo sa il mago a questo incantesimo praticamente tu lo lanci e dal momento in cui lo lanci fino al momento in cui scade che è un bel po' di minuti lui ti tiene traccia della mappa in cui stai andando quindi teoricamente hai un minimo di mappa però è una mappa ovviamente che devi ricordarti di castare che non è sempre disponibile se ti dimentichi lui quel pezzo in cui hai camminato in cui ti sei dimenticato non te lo non te lo cartografa diciamo quindi c'è anche questa cosa e così quindi teoricamente ci sarebbe la mappa però è studiata in modo intelligente cioè nel senso è è un misto tra il fatto che te la disegni tu e quindi è tua responsabilità e se ti perdi sono cazzi tuoi cosa che era ovviamente con Eye of the Beholder ai tempi in cui ci giocavi quando è uscito perché non c'era internet non c'erano le mappe non c'era niente è un misto fra quello e magari i giochi invece un po' più moderni che hanno proprio la mappa fissa che si compila mano a mano che vai avanti è molto bello devo dire che mi piace un sacco come come scamotage il mago è broken il mago è bellissimo vabbè che faccio vado c'ho paura c'ho paura quindi vado ok ho per morire molto male questo si è impallato un'altra volta ok oddio oddio ok una una fiasca d'acqua che tra l'altro tra poco dovrei anche mangiare e una armatura di pelle l'armatura di pelle è classicamente assegnata al al druido giusto vediamo un po' il druido adesso ha armor class 10 e adesso ha 13 bello bello invece lui scusate no vorrei capire ma lui che lui è proprio forte di di suo ma quanto dà questo dà 3 armor class wow scusate ma allora io gliela metto al chierico che poverino l'ha messo un po' male giusto quanto sta il chierico sta a 8 eh così almeno abbiamo un attimo di di bilanciamento non è successo niente ah forse la pressure plate armatura di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo esatto la la pressure plate qui non so minimamente che cosa faccia comunque va bene e allora io adesso sono un po' tentato a tornare indietro nell'area iniziale perché ho l'impressione che ci sia qualcosa di importante e soprattutto di di basilare se conosco i miei polli quindi scusate eh se faccio un attimo di backtracking come diciamo noi noi gente pro vedete come mi oriento già sono proprio sono proprio forte non c'è niente da fare voi lo so che non avete capito dove siamo ma siamo qui in questo preciso punto bellissimo ops ok e leggiamo la la cosa qui marktor cannot read però però ci abbiamo ci abbiamo ci abbiamo read rune sarà questo quello in basso di questi gemelli no quello in basso è il suo gemello solo una lama magica bucherà la sua pelle ok grazie mille della interessantissima e soprattutto chiara spiegazione e che vi devo dire qui c'è una porta bruttissima porta secondo voi si scende qui no io ho paura no 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 io dormo io dormo e salvo cioè mi piace aspettiamo tre ore e mezzo potrebbe essere una scala comunque quella mi raccomando fate i bravi esatto fate i bravi mi raccomando e nel frattempo offerto dal gentile team di sviluppatori del 1992 il manuale da io non ce la posso fare con questo suono ragazzi tu cast e spell grazie questo mi fa saltare dalla sedia ogni volta per guardare la spellstone clicca sul personale sul simbolo che vuol dire poi ci clicchiamo ah no è quello è quello che c'è all'inizio semplicemente vabbè usare le armi penso che le usiamo le armi vanno posizionate nella nella mano quella dell'action questo va bene ah il fighter può usare due armi quella action può impugnare qualsiasi tipo di arma mentre quell'altra può usare solo armi piccole come un coltello o un martello lui il martello lo considera un'arma piccola il martello da guerra no non sarà il martello da guerra sarà il martellino con cui attacchi i chiodi nel dungeon cioè sarà il martello quello che hanno usato per montare il dungeon col kit dell'ikea no null po' è diventato il mio suono preferito concordo dopo ce lo potresti raccontare a fine live una fiabba tutta in smr no no ok e questo qua ah questo è il simbolino va bene allora quindi mi ha detto che posso usare se io tolgo lui gli tolgo ben due punti di armor class però gli potrei mettere una una doppia arma chi se ne frega no meglio l'armor ma meglio far così ok possiamo andare avanti e vedere che succede vedi che vedi che qui è diciamo un piano inferiore attenzione attenzione è un piano inferiore allora facciamo così facciamo la nostra bellissima cosa di scendere che è questa cose di scendere su reeducation al darsh ok e qui si va al livello 2 che ovviamente vedremo un'altra volta bella questa cosa che inizi il dungeon e c'è subito aspetta 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 che succede non voglio salire aiuto ok bella questa cosa anche che che è immediato e non carica wow complimenti ok andiamo di qua va ah qua c'era la chiave giusto faccio esatto farei molta paura in asmr quindi no assolutamente no anche nel dungeon hai bisogno di chiodi certo per attaccare tutte queste cose come fai le nostre prime scale che bello tanti coricini spingitori di spingitori di leve vai con la chiave ok però aspettate devo fare la mappa quindi oh questo non me ne era accorto ah ok ok questa è un una sacca piena di di cose di cose da lancio e vabbè li facciamo usare a lui e questo è un tower shield madonna e allora facciamo così e così a lei non lei non non gliene frega niente della si si come no gliene frega facciamo così e non ho idea di questi qua a chi darle sinceramente vabbè ok 2 3 4 5 6 c'è qualcuno cazzo cazzo mi disintegro mi disintegro guarda che mobilità guarda che mobilità 1 2 3 4 5 6 abbiamo detto 1 2 3 4 5 6 eccoci qua allora si fa così così ma che palle scappa dove è andato ma sta scappando dai è bellissimo c'è anche il flea che bello 1 2 3 oh guarda un po' lì che c'è ci sono 3 3 alcovine qui 1 2 3 amico amico esatto 1 2 3 e poi c'è questa barriera simpatica e poi la stanza si rigira la barriera simpatica per il momento la lasciamo dov'è qui facciamo così e c'è un'altra sacchetta d'acqua bene dovrò iniziare a usarle salve ok per favore io vengo dalla scuola I have the builder ciccio ok e quindi così oh oh questo mi piace questo mi piace molto molto questo è un glyph scroll stuff ah questa lancia il lancia i glyphy credo però se non ho le frecce come faccio vabbè quindi qua c'era la freccia qua è vuoto e qua c'è la faredra ovviamente quindi ora automaticamente posso tirare le frecce no per tirare le frecce devo mettergli in mano la faredra no come diavolo faccio a tirare le frecce devo prendere la frecce e metterla qui no va bene poi vediamo il manuale ok poi qui 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 fa così così buongiorno non voglio sapere cos'è questo coso vuole acqua c'ha sete ecco perché ci mette tre ore a caricare perché carica tutto il gioco madonna spero di no quando vede un beholder cazzo cazzo nickname non proprio facilissimo è vero è una glyph scroll stuff che hanno censurato qui 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 fa il darsino qua 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 lochetta oh buongiorno aspetta questo io penso di poterlo togliere tipo per esempio era aspetta dove era aspetta 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 dove cacchio stava perché non perché non trovo le cose io ma aiuto non trovo più le cose dove è la è la pergamena eccola tipo no no sbagliato era l'altro questo remove glyph sarà questo no no non è quello sarà dispel ce l'ho dispel si ce l'ho oh si era dispel salute 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 e ovviamente ne trovo un'altra mi sembra giustissimo ah quindi è una scroll di dispel perfetto che ho usato cioè che ho trovato dispelando un muro ah attenzione c'è una levetta una levetta che dà a ovest giusto mago salute triade salute triade una una levetta che dà a ovest giusto mago dici io che ne so se non mi fai memorizzare incantesimo io non ti posso di niente c'hai ragione mago dimmi dimmi che dà a ovest giusto mi sto rincitrullendo ok dopo però apriamo ricordiamo ricordatemi di aprire di 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 cos'area quella a fare qui intanto possiamo dispellare pom che bello uno due tre uh c'è un martello possiamo montare le cose dica anche la wizard sai giusto franciccio giusto perché altrimenti non non riesco più a capire se se faccio le cose per bene troppi shield facciamo uno a lui wizard sight bene martello warhammer ah ma è uguale a quello che ho scusa certo lei col warhammer proviamo il chiarico col warhammer oddio non so se ha dei malos vabbè proviamo non si può vedere il chiarico col warhammer attenzione perché devo mangiare oppure bere proviamo a bere dar tu mi fai l'occa rendella buonanotte ocarin buonanotte trish comunque non so se avete visto quanto poco sale con la con l'acqua oddio è bellissima è spolpata oh c'è una una mela cos'è una mela madonna ragazzi io sono preoccupato eh ah ok ogni ogni cibo ha due due mozzichi marctor is full ok sei pieno quindi ah forse perché il formaggio è nutriente quindi no ragazzi ho un serio problema di cibo esiste esiste l'incantesimo di cibo del del mago si deve esistere va bene attiviamo l'interruttore vediamo un po' che è successo ah è successo che si è si è accesa ga ga anche a te cioè quell'interruttore fa accendere un una cosa ok io la lascio così non si sa mai bene credo che sia finito qua no pure cuoco secondo voi questo è e se fosse un portale aspetta eh è un portale cazzo 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 non era un portale non era un portale mi ha preso un colpo ma che cosa è successo secondo voi niente che ci sono passato attraverso e basta ehm ah forse era un modo alternativo per entrare cioè ti ti teletransporta nel coso accanto ok si è chiaro ok cioè questo ti teletransporta qui dentro in modo che tu non debba per forza dispellare questo è un modo alternativo però noi siamo forti quindi abbiamo trovato il modo alternativo va benissimo è un mago svizzero sto qua cazzo cazzo tutturu pessima serata quando mi rode mi si è spento il pc dal nulla e mi stanno costringendo in discussioni infinite facendomi perdere questo spettacolo porca miseria mi dispiace tantissimo veramente mi dispiace tantissimo ehm aspetta non è che questo tipo posso usarlo per per prendere l'acqua sì ma quindi mi dà acqua infinita questo ah ma comunque non puoi esagerare a dargli da bere e da mangiare beh ma questa non è una porta quindi questa è semplicemente una una fontana beh cacchio la fontana è importantissima vedi tarja is full no no la fontana dobbiamo assolutamente disegnarla e proprio scolpirla nella pietra ehm c'è proprio la fontana quindi io ci metto proprio la fontana eccola tiè guarda è bella perfetto ok menaglie non so a chi ma menaglie je suis mister oldings io bevo ragazzi anche se non me lo dite perché sto mi sto veramente svociando comunque è bellissimo sto gioco bellissimo ma che sei matto mi hai fatto struzzare franciccio va bene ok allora attenzione dobbiamo andare qua sotto quindi aspetta salvo salvo perché devo cercare una cosa nel manuale quindi approfitto no devo assolutamente cercare una cosa fondamentale intanto vediamo qualche se c'è qualche trick o qualcosa sul sul cibo cibo rigorosamente con due b mi raccomando food food bla 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 devi mangiare ok va bene va bene a quanto pare l'acqua non è un problema il problema è il cibo però quindi io volevo vedere se c'era il mago che poteva creare cibo allora wizard sight compass fireball 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 shield drent ah necromancer remove forse 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 il druido beh adesso li vediamo un po' tutti mind strike death dispel illusion create wall però a livello 4 no cioè tendenzialmente dove death storm è bellissimo dovrebbe essere qualcosa di di basso di livello smith disrupped shadow shield blast of cold quake pestilence cure wound cure poison shunt of doom tone fire fire wind fireball niente non c'è non c'è un incantesimo per creare il cibo si eccolo create food madonna mia che sospiro di sollievo che sospiro di sollievo però questa cosa un po' mi preoccupa se vedete ci sono diverse specializzazioni per esempio il chierico può specializzarsi questa cosa è bellissima il chierico può specializzarsi in tizio che prega orlin tom of life e niente non c'è niente di quindi create food è solo qui poi book of retribution eccetera eccetera e allo stesso modo il mago può specializzarsi in necromante cultista parola parola del mago libram ah questa è la la magia oscura e questo fa dai 10 ai 100 danni bellissimo e il druido anche lui può specializzarsi in piani elementi druido druido saggio o fuoco beh questa cosa devo dire è carinissima i maghi cultisti sono quelli che fanno palestra esatto i maghi cultisti sono quelli che fanno palestra ci sei mancato la lore è enorme e l'ore sei in un posto brutto brutto dove è morta tanta gente lunghissima lunghissima esatto esatto praticamente la traduzione è quella esattamente quello che ha scritto Colt ah bravo cerca come se usano le frecce hai ragione però visto che sono tutti non so come hanno fatto a farlo così così bene ma da quello che ho capito sono tutte ricercabili le parole quindi create food vediamo se è solo quello intanto è solo quello ok quindi ricordatevi assolutamente che il nostro chierico deve specializzarsi in prayers of orlin che non so cosa voglio dire ma mi raccomando e le frecce arrow no sono andati troppo in giù bene si in giù no arrow intende freccia proprio non ci frega niente quiver se tu trovi una faretra e un arco ah devi posizionarla lì e vabbè grazie al grazie grazie alla faretra come si usano le frecce se devi svoltare a destra metti la freccia a destra se devi svoltare a sinistra metti la freccia a sinistra eccolo attenzione specializzarsi in piegatore di orli segnato esatto è stato a far morire oggi ok ho trovato eh c'era scritto palesemente allora attenzione torniamo al gioco come vi faccio vedere io dunque poi vi leggo perché ho perso un sacco di messaggi dice forza dice che bisogna mettere l'arco nella main hand e la freccia qui e automaticamente e automaticamente vengono vengono tirate le frecce fino a quando ovviamente non le hai quindi questa è fatta perfetto e tu che ricordi a noi di ricordarti di bere esatto a quanto pare sì la lore ce la studiamo la prossima volta in caso oppure la posso mettere su discord non lo so comunque devo la lore che ha scritto Marcello merita di essere riletta sei in un posto brutto brutto dove è morta tanta gente e se non esci crepi pure te a breve dei fame dei sete e dei be order cattivi le pause mi fanno morire anche a me non ho capito come le mette francamente vabbè ho letto tipo due linee madman I am not a man le frecce ok devi svoltare a destra e si rissa giustamente bene devo di nuovo bere ok io bevo però non esageriamo qui se no però vi devo lasciare per andare al bagno si ma qua il problema è che il tempo passa e questi mi mogliono le fame quindi vado allora non so dove sono dove sono sono lì dove sono dovrei teoricamente arrivare ok la scala eccola qui quindi qui siamo partiti e qui scendiamo tra l'altro questo si è materializzato in mezzo alla stanza così non c'è un ingresso ma c'è anche disegnato semplicemente vabbè questa cosa è bellissima comunque dobbiamo andare a sinistra poi giù 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 poi di qua e credo di essere arrivato no siamo a ovest mi sono perso scusi mago dove sono aiuto mi sono perso completamente non volevo andare qui volevo andare cari bambini di qua eccoci allora siamo esattamente qui io devo andare intanto salvo la mappa perché non si sa mai se mi si cancella la mappa è proprio bestemmio fino al domattina ah ricordiamoci che c'è anche un buco da qualche parte che non mi ricordo dove ciao sono bender prego inserire flopino oddio ciao sono bender prego inserire flopino che bella vabbè tutte sono belle però allora eccoci siamo qui siamo qui siamo qui ok 1 2 3 4 5 e poi c'è la svolta della 1 2 3 4 5 e così ah 1 2 3 no no cosa no ma questo ma qua c'era un muro prima adesso non c'è più scusami no ma vi pre ma è una parete illusoria no c'era giuro dov'è aiuto non ci sto capendo niente no no ragazzi no no questa cosa è tremenda ma l'avete visto anche voi spero cioè si non è che sono diventato scemo all'improvviso cioè questa qua in realtà c'è da questo lato ma non c'è da questo futurama rules quello è su un altro sito con 11.000 floppini riscatto su posta per il dash no quella con il cane mi strazzi ogni volta mamma mia tremenda in quella puntata c'è anche il beholder dai non me lo ricordo avevo teorizzato che qualsiasi trama era in realtà già presente in futurama e ci ho azzeccato se poi ci metti pure il gioco di bender esatto allora ricominciamo aspetto sbagliato adesso vi faccio vedere che non sono completamente rimbambito perché siamo di qua 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 eccolo ci siamo questo qui 1 2 e 3 e c'è un cioè saremmo qua 1 2 3 siamo qua quindi da questa parte il muro c'è non c'è dall'altra parte però c'è quindi tanti auguri come faccio a assegnarla questa cosa secondo voi con una freccia ci sono le frecce? no non ci sono le frecce è possibile non ci sono le frecce allora faccio così secondo voi? si capisci si se ne frega ok poi 1 2 e si g aspetta 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 che mi ha mi ha fatto andare da qualche parte che non so dove ah mi ha girato semplicemente ok madonna cominciamo con le cose che girano un giramento di cose qui ok quindi per niente se io vado 1 2 così appena vado in questa casella lui mi gira e non ho più la bussola però io sono furbo e lo capisco che mi ha girato e quindi faccio così e vinco io vince vince sì l'italiano vince 1 2 3 ecco lui ma con chi pensi di avere a che fare signor Gio non lo so guarda è avvilente che tu pensi di fregarmi così 1 2 3 1 2 3 ok non vuoi quasi rotto il K però eh hai abbondantemente rotto il K oh 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 c'è un pezzo di carne per terra vedi che ne valeva la pena di fare tutta questa ops questo incasinamento ok pezzo di carne ho sbagliato certo se metti il pezzo di carne nella faretra forse qualche problemino c'è giustamente madonna mia però vabbè continuo che ti devo dire io sto qui tutta la notte è un beholder cazzo cazzo no ma si è chiusa la porta qua ma porca miseria tu spara la freccia no che stai a fare lì ok madonna però ogni volta devo raccogliere la freccia e metti la freccia pulisci la freccia allora aspetta aspetta boni tutti che mi servono gli incantesimi tra l'altro mi è scaduto pure l'altro casino compass fireball cosa ho la fireball perché perché all'improvviso ho la fireball non so se stia a fare qua secondo voi ma allora dispel magic chaos read rune e protection ok poison claw questo ce l'abbiamo tutto ok allora ok sto verso est ah davvero cioè mi si è chiusa la porta praticamente no 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 che succede no qualcosa che non va vedi casino ah mi sa che ho capito aspetta sì sono qui è chiusa questa porta praticamente questo questo qua cioè questo questo muro non esiste più cioè è bloccato adesso ok va bene quindi siamo qui ah che maledetti mo qui devo posso per forza solo andare giù cavolo questo è da bastardini però eh sbaglio per non dire per non dire proprio stronzi sì ok andiamo bene proprio bene esatto ok niente mi tocca cadere non c'è modo di cioè qua non è che sono muri illusori sono proprio muri a meno che non faccio despair magic vediamo un po' ma proprio col cavolo reveal truth no sto provando tutti niente chaos niente mamma mia ah il behholder nella puntata del floppino sai che non me lo ricordavo non hai qualcosa tipo un imbuto buto a sorpresa queste citazioni di erio ah qualcosa imbuto nel senso del simbolo dici no mi sa di no cercavo qualcosa che mi indicasse sì esatto il senso il senso di di marcia però non c'è vabbè non c'è il senso di marcia le citazioni sì in scioltezza maestro del barbecue sempre metti la freccia togli la freccia no no non rodo tagli il sano no vabbè e cado sto per cadere addio madonna perché cosa no vabbè siete stronzi proprio ma tanto tanto mo perché io sono bravo a giocare perché altrimenti porca è morta no ma vi rendete conto che bastardi cioè non potrò mai risuscitarla adesso quella poveraccia io e quindi adesso mi tocca ricaricare sì beh ricarichiamo chi se ne frega cioè darti una scimmia a due teste dove non erano tre teste qualcosa che puoi passare da un lato ma dall'altro no esatto eh sì sì lo so che ora is dead ma serve un ingrediente serve una pietra vabbè adesso che lo sappiamo scusate cioè tanto non c'è assolutamente niente di qua quindi chi se ne frega non ci vado proprio scendo dalle 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 normali scale esatto va bene intanto che carica io non so continuo a fare la mappina qui ho sentito serve un ingrediente è provato col guanciale ma no purtroppo no non ci sono guanciali qui avete così tanto che io ho il tempo di farmi tutte le mie mappina carina mi raccomando fate i bravi fate i bravi mi raccomando ah ce l'abbiamo fatta voilà facciamo così se no ci confondiamo voilà beh come prima mappa non è male dai salviamo allora dove cacchio eravamo adesso oh mamma eravamo alla fontana praticamente siamo andati di qua abbiamo scoperto questa non ce la faccio abbiamo scoperto questa magagna qui e basta in realtà abbiamo finito qui possiamo scendere dai scendiamo sono curioso di vedere il livello giù quindi bisogna andare tutto di là e voilà eccoci allora io intanto dormirei con molta calma il nostro cartografo professionista hai visto mentre dormiamo io devo fare il nuovo livello però 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 aspetta perché mi sa che devo scrivere qui tipo livello 1 perché altrimenti come li chiamiamo i livelli 1 2 3 perché tanto qui scendiamo no immagino li nominiamo ascendente o discendente discendente è impossibile perché non so quanti sono in tutto quindi 1 2 3 4 ma non ma non andiamo sotto bravi grazie del suggerimento dice hai fatto tutto da solo non lo so livello 1 voilà così me lo ricordo vai livello 2 livello 2 magari un po' più oh sbagliato un po' più al centro un po' qua livello 2 e qua però dovremmo scrivere tipo non so tipo 2 per far capire che qui si fa livello 2 perché non so quanto sia complicato però io lo scriverei non si sa mai perché vi ricordate che in I of the Beholder 1 non avevo fatto questa cosa all'inizio e visto che c'erano diverse scale sullo stesso livello non riuscivo a capire poi dove sarei sbucato negli altri quindi visto che l'esperienza insegna direi di fare così ok partiamo dal centro allora abbiamo dormito ora memorizziamo un po' di cose tipo per esempio tu c'hai tutto tu non c'hai niente quindi fai lo shield a lui e memorizzati cose interessanti tipo wizard sight compass basta mentre tu dispel magic read rune e protection ce l'hai già vai siamo pronti allora compass nord beato lui che ha tutto beato lui che ha tutto esatto sistemati il druido e le borracce le hai riempite hai ragione il druido non era più sistemato si le borracce si poi ho salvato però il druido giustamente non era pronto le borracce eccole le borracce va bene allora qui a nord ci sono le scale ho sbagliato a nord ci sono le scale siamo al centro più o meno si le scale sono queste qui olè e le scale in questo caso vanno a livello 1 poi a est si scende a ovest uguale ah c'è subito una bella porta e c'è subito una bella porta fantastico vabbè apriamo una qualsiasi tanto saranno comunicanti ah ma è lo stesso è lo stesso la stessa enorme stanza di prima secondo voi venga lo so allora a est ci sono due caselle a est ci sono due caselle e poi fa così poi fa di nuovo così e qua c'è una porta con la chiave verde immagino il mondo è fatto a scale c'è chi scende c'è chi sale c'è chi rotola in discesa che fatica per l'ascesa tutt'uru bellissimo glielo hai messo il cooldown in che senso è risaputo che Darcio sa disegnare ma sul leggere scrivere è carente va bene salvo adesso ho capito ma ci metto tre ore il mondo lol dai aspettate salvo tra poco su a mio rischio e pericolo uno due oddio oddio eccolo no non volevo non volevo porca miseria no sto per morire di nuovo ragazzi dovevo salvare subito lo sapevo ma non lo sto colpendo non lo sto colpendo perché fireball lalo d'Arciu eh non l'ho non l'ho memorizzata che ora l'ho memorizzata non c'è fireball qua non ho capito cosa sta succedendo non lo sto colpendo ah adesso si l'ho colpito no col cavolo c'è la chiave comunque lui no ma ci sarà un modo alternativo che vi devo dire oh c'è la death jam potevo potevo risvegliarlo in effetti due death jam ah ma praticamente ma si può arrestare stranamente stranamente evidentemente funziona così quando muori droppi automaticamente la sì ma non riesco a prenderlo ragazzi non so che fargli vediamo in giro che c'è chain leggings scusa mi sono detrasportato forse devo intrappolarlo devo intrappolarlo ma dove è andato a finire aiuto dove è andato a finire nel frattempo giustamente il mago è morto quindi non c'ho più l'incantesimo ok ah eccolo eccolo no qui qui dovrai dovrai sfruttare l'intelligenza forse devo chiuderlo aspetta aspetta forse devo chiuderlo di qua guarda guarda è molto semplice vieni vieni venghi 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 signore venghi oh poveri no no è qua comunque ho capito ho capito ho capito perché sei intelligente cazzo è più intelligente di me che cos'è un ogre intelligente e dai ho capito ok l'ogre è intelligente apre le porte bene non ho capito male si apre le porte quindi non devo intrappolarlo ok mi sono interessante che ci siamo bloccati immediatamente dal primo mostro serio vediamo voi che suggerite non riesco a colpirlo con le armi normali potrebbe essere vulnerabile alla magia ci ho pensato adesso vediamo immediatamente se posso fare qualcosa in tal senso c'era sul manuale si eh ah tu dici che ha due cervelli quindi è piuttosto intelligente hai ragione non ci avevo pensato va bene proviamo con la magia dai proviamo con la magia si si no no si si c'è scritto combattere i minion ma è la guida la guida generica tipo premi con il pulsante per attaccarli oppure premi con l'altro pulsante per lanciargli le frecce tutto qui niente di serio gli ogre gli ogre diciamo nella letteratura fantasy comunemente sono sono ga sicuramente sono sempre stati vulnerabili al fuoco non erro no quelli erano gli orchi comunque adesso proviamo con la magia ah avevo rivellato ah ok ok quindi dovrei prima di tutto rileverlare con dash per sparargli una palla di fuoco potrebbe essere la soluzione si gli ogre sono vulnerabili al sapone giusto perché non si lavano ok mi avete mi avete abbastanza convinto quindi noi torniamo a livello precedente e andiamo a sbloccare le cose che prima avevamo sbloccato cercando magari di non ricadere nella stessa trappola andiamo di qua di qua dove cacchio sto aiuto perché mi perdo sempre qui sto a ovest adesso ok ok dica preparati perché non ti eri preparato si si adesso sto semplicemente andando a a quel paese perché non so dove gli orchi sono come le cipolle gli orchi sono come le cipolle ok ah eccomi credo di essere qui si bene ci sono ci sono ci sonissimo ok allora io ero livellato perché qua c'era un biolderino non lo so in che senso qui c'era un biolderino se non erro questo è il il muro stupido questo è il muro che non mi ha fregato però non mi ricordo dov'è il biolderino che mi ha fatto livellare cavolo dov'era ma io qui sto tornando vabbè che tanto possiamo possiamo buttarci ecco il biolder possiamo tranquillamente buttarci nel nel buco di prima perché tanto adesso sappiamo dove dove porta salve scusi sono qui per ammarcharla grazie guarda guarda come scappa mi sta porca miseria mi sto oh ho capito tirgia ha guadagnato un livello ma non darsh e qui c'è il buco perché non ha livellato darsh cosa ci mancava da fare scusa noi dopo di questo siamo andati direttamente qui che pizza e tra l'altro non ho non mi ricordo come così esperienza 500 queen 500 eh manca pochissima esperienza ne ho uccisi due eh ma dove sono non ci sono a parte che ora mi sono bloccato ovviamente perché lui non ce l'ha allora intanto potrei far così potrei usare gli incantesimi degli altri per vedere se comunque gli faccio del male tipo caos lui non ha nulla posso shieldare la gente posso niente basta posso fare non so poison cloud e queste cose qui e vediamo allora shield lo facciamo su loro due protection lo facciamo su lui caos ce lo teniamo per dopo wizard sight e compass basta poi mi tengo caos e vediamo dov'è il go cacchio quanto sei grosso niente non non fa neanche il poison cloud è comodo perché puoi accedere da qualsiasi dispositivo esatto ma che cacchio vi devo fa questo io scusate vado vado un po' in giro a vedere cose perché a sto punto qui c'è una porta che non si sa come si apre qui c'è l'ogre aiuto qui c'è una gemma che serve qui c'è un coso aperto apriamolo andiamo in giro a caso ah qua ok qua siamo all'inizio qui c'è la chiave della cioè la porta che ha lui quella chiave che ha lui qui c'è questa cosa qui non ho capito cos'è ah chain leggings ok poi abbiamo il famoso interruttore che se lo premo mi porta dall'altra parte del dungeon del livello vedete qui ci sono due porte aspetta però le due porte quali erano le due porte una era quella che si apriva con la chiave sua l'altra però l'altra era questa che sta dall'altra parte ah questa qui ah vedi c'è un tizio un tizio beholder lì dietro però non ho idea di come oddio eccolo quindi praticamente mi teletrasporta da aspetta aspetta sono andato dall'altra parte o sbaglio della porta sì sono andato dall'altra parte della porta ragazzi ragazze ok sono tornato dove ero prima ok darshallivellato io ora la palla di fuoco potremmo anche avercela in teoria il problema è che no il problema è che non so dove diavolo sono addio comunque ok oddio no ho capito ho capito l'interruttore di trasporta aspetta aspetta perché adesso praticamente mi hanno fatto livellare forse per farmi prendere la fireball proviamo se riesco a ammazzare l'ogre stasera vado a letto ma proprio di un felice proprio proprio niente non ha minimamente sentito la la palla di fuoco va bene eccolo allora quindi questo io praticamente adesso cameame anche io sto qui vedete come funziona io sto qui e lui mi teletrasporta qui appena apremo l'interruttore giusto Sì, mi teletrasporta qui ovviamente, ah ovviamente io adesso non lo vedo il muro, ma l'ogre lo vede, quindi non viene qui, quindi per l'ogre io sono sparito adesso, ok, è chiarissimo. Sarà già la fine di questa avventura? E invece no, perché l'ogre lo saltiamo ragazzi, anzi vi dirò di più, io mi prendo anche la roba che stava per terra qui, questa roba qua io me la prendo, perché quella è poverina una sacca di un poveraccio che è morto qui, qui c'è, però prima o poi dovremmo ucciderlo questo, però immagino che la prendiamo dopo, la roba che serve per uccidere l'ogre, ora devo solo trovare l'interruttore, eccolo qui, a posto, voilà, adesso non ci vede l'ogre, bevo, grazie, perché siamo dietro il muro finto, infatti sentite che è, esatto, sentite che è fermo, quindi ora io, molto furbescamente, dormo, rimemorizzo gli incantesimi, Non sono riuscito a rimemorizzare la fireball però, per quale motivo? Non ho dormito abbastanza, forse? Franciscio Streamhack, è troppo bello, ok, non me la fa riprendere la palla di fuoco, vabbè, se ne frega, questo prendiamo un altro caos, Salvo Salvo Vediamo questa poveraccia Come siete messi a cibo? Siete messi benino, diciamo, almeno, ah questa volevo vedere che c'era dentro Oh, c'è una cosetta, vediamo Sono stato un pazzo ad attaccare la bestia a due teste, è molto più forte della mia spada, cioè è molto più forte di quello che posso permettermi insomma, se solo avessi avuto la spada magica Ogre Blade Però noi abbiamo visto prima, che la Ogre Blade è maledetta se non erro, ma dove cacchio stava? C'ho duemila borse, dove stava la Ogre Blade? Eccola Eccola, sì, è Cursed È Cursed La spada di Chris Isaac Sì Allora, è maledetta nel senso che mi drena la vita, però mi servirà solo per questo scontro, poi la tolgo e la vita mi torna a sorridere, come si suol dire, giusto? Ok, dai, dai, abbiamo capito come si fa, quindi a questo punto salvo, perché abbiamo capito, siamo bravissimi Beh, beh, il primo impatto è veramente positivo, eh, veramente tanto positivo Però è talmente positivo che io direi che è ora di andare a letto Allora, no, mi sono espresso male, è positivo, ma non così tanto da continuare Una delle due pergamene è falsa, dici? Ah, la pergamena falsa, inventrice di una storia falsa, giustamente Esatto, bravo, Franciscio, io pensavo proprio a quello, pensavo che non potessi più togliermela, capito? Invece, non credo Cioè, è maledetta nel senso che finché la indossi ti fa male, poi Va bene Direi che per stasera La pergamente e la spada mena La pergamente e la spada mena, certo Direi che per questa sera abbiamo dato E abbiamo anche ricevuto E mi fermerei qui, perché tra l'altro adesso Dovremmo esplorare tutta l'altra parte del dungeon In cui presumibilmente troveremo la spada di fuoco Per poi tornare ad uccidere l'ogre Quindi direi che la facciamo la prossima volta che siamo un po' più Lucidi, soprattutto io Io vi ringrazio tantissimo, è stata una serata divertentissima Mi sono... Cioè, sono stato veramente bene E spero... Gah, anche a te Spero anche a voi E ci rivediamo molto probabilmente mercoledì Per giocare ad Among Us E venerdì per la serata visual novel Come al solito Con questo ci rivediamo lunedì prossimo Nel frattempo io cercherò di Disegnare la mappa Della zona dove è l'ogre E così la prossima volta ce l'abbiamo pronta Poi quel pezzettino successivo a quella specie di teletrasporto Quello ovviamente non l'abbiamo ancora fatto E non lo disegnerò Va bene? Buonanotte, grazie Un saluto E buon martedì per domani E in bocca al... In bocca al lupo Esatto In bocca al lupo Accolto Vederdì Non ci sei, io non è politica Addirittura politica Sei un reazionario politico Sei un militante Ciao ragazzi, grazie ancora Buonanotte